Oggi in Italia a produrre informazione sono per l'80% giornalisti precari, di questi oltre la metà sono donne e io sono una di loro, professionista da anni, lavoro da molto di più, eppure a tutt'oggi per me, come per tutto il popolo dei precari, un salario e una pensione decente sono utopia. Per rivendicare i diritti delle donne e per una maggiore giustizia sociale, e questo già pasterebbe questo, per dare uguale opportunità di lavoro, facilitare la possibilità di avere i figli senza dover rinunciare al lavoro e avere un maggior peso nelle decisioni politiche e sociali. Donne per cultura, cultura per donne! Donne per cultura, cultura per donne! Un paese senza cultura non è un paese, è un paese che muore, è un paese senza radici, non è un paese. E anche in Italia, come in tutto il mondo, le donne decidono troppo poco, dovrebbero decidere di più e il mondo sarebbe migliore. Grazie a tutti voi, e grazie a vostre dispensate, per la giuria,tt�ansione, spettacolare. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info